Ludovico Sforza, detto il Moro, un principe rinascimentale tra ascesa e caduta. Infanzia e soprannome. Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, nacque a Vigevano il 27 luglio 1452, quarto figlio di Francesco Sforza, primo duca di Milano, e Bianca Maria Visconti. Il soprannome L. Moro deriva dalla sua carnagione scura e dai capelli neri, tratti ereditati dalla madre. Ascesa al potere. Ludovico non era destinato a governare. I suoi fratelli maggiori Galeazzo Maria e Sforza Maria lo precedevano nella linea di successione. Tuttavia, la morte prematura di entrambi, nel 1476 e 1479, lo portò alla ribalta. Nel 1480, alla morte del nipote Gian Galeazzo Maria Sforza, ancora bambino, Ludovico assunse la reggenza del Ducato di Milano. Un abile reggente. Ludovico si dimostrò un abile reggente. Rafforzò l'esercito, promosse la cultura e le arti, e fece di Milano un centro di rinascita artistica e letteraria. Tra i suoi più grandi successivi fu la commissione dell'ultima cena a Leonardo da Vinci, che ancora oggi decora il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. Matrimonio e politica estera Nel 1491, Ludovico sposò Beatrice d'Este, figlia del duca di Ferrara Ercole I d'Este. Il matrimonio rafforzò le sue alleanze e portò stabilità al Ducato. Tuttavia, la sua politica estera fu spesso avventata e lo portò a inimicarsi potenti signorie italiane e straniere. L'invasione francese e la caduta Nel 1494, Ludovico Sforza ottenne l'investitura ufficiale del Ducato di Milano dall'imperatore Massimiliano I. Ma l'anno successivo, su invito del Moro stesso, scese in Italia il re di Francia Carlo VIII con l'intento di conquistare il regno di Napoli. L'invasione francese sconvolse gli equilibri politici italiani e portò alla caduta di Ludovico. Sconfitto nella battaglia di Fornovo 1495, il Moro fu costretto a fuggire in esilio. Prigionia e morte Ludovico Sforza tentò di riconquistare il Ducato nel 1500, ma fu sconfitto e catturato dai francesi. Imprigionato nella fortezza di Locus in Francia, vi morì il 27 maggio 1508. Eredità Ludovico Sforza è una figura controversa della storia italiana. Da un lato, fu un abile reggente che contribuì alla prosperità del Ducato di Milano e al suo splendore culturale. Dall'altro, la sua politica estera ambiziosa e avventata provocò l'invasione francese e la sua rovina. Conclusione Nonostante la sua caduta, Ludovico Sforza rimane una figura importante del Rinascimento italiano. Il suo mecenatismo e il suo amore per le arti hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura del nostro paese. Il rapporto di Ludovico Sforza con Leonardo da Vinci fu uno dei più fecondi e significativi della storia del Rinascimento. Il Moro, uomo di grande cultura e sensibilità artistica, riconobbe il genio di Leonardo e lo chiamò alla sua corte nel 1482. Leonardo rimase a Milano per ben 17 anni, durante i quali realizzò alcune delle sue opere più importanti, tra cui L'Ultima cena, Il codice atlantico e La dama con l'ermellino. Il Moro gli affidò anche numerosi incarichi di natura ingegneristica e architettonica, tra cui la progettazione della cupola del Duomo di Milano e del Castello Sforzesco. Il rapporto tra i due uomini era basato sulla stima reciproca e sull'ammirazione per le rispettive doti intellettuali. Leonardo trovò alla corte di Milano un ambiente stimolante e ricco di opportunità, mentre il Moro si avvalse del talento del genio toscano per accrescere il prestigio del suo ducato. Il Castello Sforzesco di Milano Il Castello Sforzesco di Milano fu una delle residenze principali di Ludovico Sforza. Il Duca promosse un'ampia campagna di lavori di ristrutturazione e ampliamento del castello, trasformandolo in una delle più sontuose corti d'Europa. Leonardo da Vinci contribuì al progetto del castello in diversi modi. Tra le sue opere più importanti ricordiamo la Sala delle Asse, decorata con affreschi a tema vegetale, e la Torre del Filarete, di cui progettò la base. Il Castello Sforzesco ospitava anche la ricca biblioteca di Ludovico Sforza, che vantava migliaia di volumi su argomenti di storia, filosofia, letteratura e scienze. La biblioteca era aperta a studiosi e letterati da tutta Italia, contribuendo a fare di Milano un centro di cultura e di sapere. Il rapporto tra Ludovico Sforza e Leonardo da Vinci fu un sodalizio di grande valore per entrambi. Il Moro seppe valorizzare il genio di Leonardo, che a sua volta contribuì a rendere Milano una delle capitali del rinascimento italiano. Il Castello Sforzesco, con le sue opere d'arte e la sua ricca biblioteca, è ancora oggi una testimonianza tangibile della magnificenza della corte sforzesca.